La Calabria è il primato in Europa per i giovani inoccupati e così la regione indossa ancora una volta la maglia nera. Secondo i dati Eurostat 2016, la Calabria è la regione del vecchio continente che nel 2016 ha fatto registrare il maggior tasso di disoccupazione giovanile, pari al 58,7%. Peggio solo Ceuta, 69,1% e Melilla, 63,3%, le due enclavi spagnole che però si trovano nel continente africano. E sul fronte politico non sono mancate le polemiche. La parlamentare pentastellata Dalila Nesci punta il dito contro il governatore Oliverio e parla di inutilità delle politiche occupazionali. In Calabria l'esperienza di governo di Oliverio è stata la fotocopia della precedente, dove hanno trionfato logiche clientelari. Per l'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano bisogna invece osservare il trend degli ultimi anni. Dal 2012 al 2015 i dati sono stati positivi. Solo nel 2016 si è registrato un andamento negativo. Confidiamo nel 2017, afferma l'assessore regionale al lavoro, quando dovrebbero farsi sentire gli effetti delle nuove azioni del piano per l'occupazione e l'inclusione approvato in giunta qualche mese fa e già avviate con il primo bando sull'autoimpiego. Rosaria Giovannone per la CNews 24